Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video del pacco che mi ha inviato e soprattutto con dentro, però ammetto anche che lo so perché ho visto cosa mi ha inviato quindi grazie Steffi, la Steffi ovvero Steffi, l'arte di Stefania, non mi ricordo il nickname di Youtube però avete capito, cominciamo a vedere cosa c'è dentro, potete vedere, basta un po' la luminosità ecco qua, così si vede, vabbè che importanza ha, importante il contenuto che c'è dentro ve lo vedete, aspettate un secondo, sì una lozione, no non si vede, sì una lozione vabbè è specchiato ecco perché, poi i profumi che utilizzerò sempre, ma vabbè, sempre libro c'è, top, poi altri campioncini, e vai, grazie Steffi, poi altri campioncini ancora, ma va, sì, proprio la Steffi, mi ha regalato un sacco di campioncini, aspettate un attimo, ok, da, è molto buona, mi sta avvolgendo cosa vi era scritto dietro il contenuto di questo tubetto, vedete, ecco qua, poi, un'altra è lo stesso gommage, un gel gommage, scrub gel, sempre di i processi, ed è da 30 ml il prodotto, sì, questi qua, erano tutti i miei prodotti, ecco qua, con tutti i campioncini, vedete anche quanti campioncini c'ho, il video termina qua, perché poi voglio fare altri video, e ci vediamo a un prossimo video, qua, sempre su YouTube ah, seguitemi anche su Instagram, ok, sono sempre molto attiva lì, questi sono i campioncini e vi saluto, ciao ragazze, ciao a presto, un bacio, ragazze mie, voglio tanto bene, grazie anche a te Steffi, ciao, grazie dell'unboxing che mi ha regalato, che mi ha inviato anche, grazie, ciao Steffi, ciao ciao